Poi queste cose, allora ci sono una cosa che ho detto da poco del paziente, tutti mi dicono perché queste cose, perché non mi date tutte queste informazioni a distanza, perché l'informazione deve essere digeribile, nel senso io non posso fare un film di 15 ore, nessuno se lo guarda, ottengo l'effetto contrario. In prima fase, quando un paziente viene, ha bisogno solo di informazioni chirurgiche, perché sono già tante le variabili che ci possono essere a livello chirurgico, se io gli inizio a parlare anche di, quante slide sono queste, e questo è proprio un bignami, sono 65, no di più, non si vede lì, aspetta, no, zoom così, e Yana, stai fumando? Ma perché non ho filmato? Comunque sono una nuova 85 slide. Ah, è arrivato dove lì? Sì, dentro la magica. Sono 85 slide, ok, non c'è nulla qua praticamente di tutto quello che è, se io dovessi dare tutta questa roba qua, un paziente nel percorso che fa impiega mediamente un anno, ok, 6 mesi, 4 mesi, chi un anno e mezzo, chi due, dipende, un percorso, poi magari dopo 2-3 anni cambiamo la linea dentale, ok, magari uno che inizia ora con standard la finisce con premium, oppure uno che fa premium la finisce con superior, oppure cambiamo solamente alcuni materiali, ok, ogni caso non può essere standardizzato, ogni paziente è diverso, in una bocca anziana non puoi mettere per esempio un tipo di materiale, in una bocca bruxista non puoi mettere quel materiale ricido, in una bocca bassa non puoi mettere il pectono, in una bocca per esempio molto alta ci vai a mettere il metallo, non si può standardizzare tutto, dovrei fare, capito, un robot che mette tutti i codici e ti esce fuori la soluzione, ma ci sono poi le variabili che vi ho detto di come guarisce il corpo umano, noi dobbiamo sempre volare a vista, se ci sono problemi capire, diagnosi, perché se c'è stato quel problema lo risolviamo, cambiamo, ok, sarà risolutivo? È un tentativo, è un tentativo, se poi vediamo che per 10 anni è andato bene potremmo dire abbiamo trovato la soluzione, che l'idea distorta innanzitutto con cui ci scontriamo è che il paziente ha all on four negli occhi, ok, e vede i denti disegnati, e pensi che quelli sono denti naturali, ma non sono, allora gli dobbiamo far capire intanto che dovremmo ricostruire l'osso, poi dobbiamo prendere tempo e fargli capire che i denti si romperanno, i provvisori, ok, e lì inizia a riabilitarsi, riabilitarsi significa capire che c'ha in bocca delle cose artificiali, che la gamba è di legno, che non è la gamba naturale in carne e ossa, il miglior modo poi per riabilitarsi è capire che alcune cose le potrà mangiare, altre no, allora iniziano a dividere in compartimenti il frigorifero, senza cambiare la vita alla famiglia, nel senso io ho il problema, non è che inizia a mettere semolini, purè di patate, uova sode in frigorifero, se vuoi la carne, questo è il mio compartimento, ok, non toccatemi ste cose, perché per sei mesi mi dovrò alimentare di cibi morbidi. Il cervello è la propria eccezione, se la tattilità viene a mancare, in maniera diversa. No, quando sei a tavola per dire una roba dura, adopero di più il frutello, sulla roba morbida lo adopero meno il frutello. Le torte sono per esempio cibi X vietati, uno può pensare che è morbida, ma dentro ci possono essere gusci di noci, ci possono essere, qua ne accorgi che si è rotto il dente quando lo vedi in bocca, in mano. Quando senti il crack il cervello non percepisce la tattilità, un capello tra i denti io lo percepisco, il paziente che ha i denti artificiali non innervati, gli impianti non sono innervati, non lo sente che ha un capello tra i denti, figuriamoci la nocce che piccolina mischiata in mezzo a, ci sono cibi che visivamente ti devi limitare, se è pancarre lo puoi mangiare, perché sai che quello è morbido, ok? Non perché te l'ho detto io, perché ci arrivi che quello è morbido. All'inizio tutte queste informazioni non le possiamo dare. Sono quali definitivi? Con quelli definitivi pure, sono protesi artificiali anche quelli, sono dure, rigide, ma non ci mangi il torrone. No, riguardo. Bisogna capire che non sono più i nostri denti naturali. La prima cosa è abituare il cervello a capire che non hai più i denti naturali. Io ho fatto una cosa che mi hanno veramente fatti complimenti alcuni docenti che mi hanno detto, hai fatto una cosa che è d'oro, ho fatto il libro degli orrori con tutti i denti rotti, perché io ho detto se devo fare l'educazione, l'educazione verbale non funziona, l'educazione visiva è molto più forte, faccio le foto, mi sono raccolto tutti i casini, li ho messi tutti in un libro, cose che possono succedere, l'ho chiamato. Apri e ci sono tutti i denti rotti, uno lo chiude e dice, ma dottore, ma si possono rompere? Buongiorno. Certo, si possono rompere. Quelle immagini hanno fatto diminuire di tre volte i problemi. Di tre volte. Da quando io ho stampato quei libri, ho dimostrato che l'educazione visiva è la migliore prevenzione, che alla fine c'erano arrivati coi pacchetti di sigarette. La stessa cosa, l'educazione visiva che spaventa è quella che delle volte fa evitare, è quella che mi avevano insegnato Tony Robbins, come che insegnano le persone, i figli a non drogarsi o a non fumare. Gli fai fumare dieci pacchetti di sigarette, lo chiudi là, poi lo porti a fare un giro in centro drogati. Ok, li vedi tutti là, lo fai intossicare, poi gli fai provare dieci giorni invece alimentazione sana, sport, poi gli fai fare di nuovo dieci giorni di full immersion con sigarette. Ancora obbliga con la pistola, accendino un'altra, non toccheranno più una sigaretta né una bottiglia. Ok, quello è un tipo di imprinting, che si può fare, che ti permette di, nella sanità per esempio, portare le persone a smettere di fumare. Ho il paziente a evitare di saltare con la protesi bionica. Lo porti a vedere tutta una serie di protesi rotte. Io ho il box degli orrori, le metto in mani ai pezzi inti, perché la prima cosa che loro devono, che io devo combattere anzi, è la disinformazione, che è troppo pattinata, troppo rosa, di denti fissi in 24 ore, con la chirurgia guidata, denti fissi avvitati per tutta la vita, poi si rompe e dice, cadono dalle nuvole. La cosa migliore per limitare, per durare nel tempo, è dire la verità, dare sia assistenza, ma limitare a priori le rotture, con la educazione. Questo video, che lo vedrà tutto il gruppo, tutte le persone future, se noi lo diffondiamo per esempio con mail, con un click, a un certo punto sto istruendo tutti quanti, istruendo tutti quanti, semplicemente dicendo e facendo vedere la verità. Grazie a tutti.